Ragazzi, scusate ma mi sono dimenticato di fare l'intro appena ho iniziato a registrare, la faccio adesso. Mi invito a lasciare tantissimi like al video, iscrivervi al mio canale e anche a lasciare un like alla pagina di Facebook. Come da titolo userò il joystick dell'Xbox 360 sul PC sul code BlackOp3. Anche se sono una pippa a usare, cioè io uso ma stasera, non ho mai utilizzato un controller per giocare uno sparatutto. Come ho detto prima, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al mio canale e mettete un like alla pagina di Facebook. E ecco tutti i video. Oggi facciamo dette match a squadre, veterano, sono sempre a cui ho rotto mappa combine con il gamepad. Ah, oh madonna che paura, ho che uscirà fuori in questo video, non so come si scivola. Come si scivola, non so, ah con la B, ok. Madonna Gesù Cristo, nemmeno l'ho visto. Ma non muore, Dio porco. No, lo avevo levo. No, lo avevo levo, porca madonna. No. Che mira, Dio porco. L'avete visto anche voi, porca madonna, sto là, la camperà. No, ma non riesco, Dio. Canaro. Cirissimo, Gio, Gio, come cazzo fanno quelle giocare? Cioè fa tutte... Come l'ho preso, agli occhi. No, l'ho alleato, sorry man. Dio, bambino. No, 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 cosa cambia... Oh, madonna. No, 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 io non voglio rompere il mio gamepad. Non lo voglio rompere. Che è l'unico che ho. L'ho visto. Oh, grandissimo. Ma ci su, bambino. Da dove? Ah, ok, lo schianto si fa così, con il joystick, ok. No, ci vedete puttana, sto fanno lo schianto, porco Dio. Porca madonna, sto fanno bello schianto, invece no. Me l'ho acceso lui, vabbè. Headshot, ha mirato, ha mirato là. Normalmente adesso headshot. Siamo anche contro, Lukatz1234. Metto la cuda. Anzi, no, come si cambia, come si cambia, scegli classe. Questa. No, porco Dio. Ah, mia, porca madonna. Dove siete a puttana, eh? Ho visto là, uno. Ho visto un altro passato, sono andato là. Ah, puttana. Puttana. Mannaggia, Cristo. Da dietro. Ma che camperone di merda. Dio cane. Oh. Non si non l'ha visto quello là dentro. Perché hai sparato? Eh, è naggiala, madonna. No, hit marker. Veterano hit marker. Veterano hit marker. Dio marker. Guarda, la mia mira. È madonna sanda, la mia mira. Che schifo. No, hit marker, l'ho visto pure voi. Bella mira. No, 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 io ho visto dopo l'ho visto, no, vabbè Sono un puttuto cercato di merda, non ho gli occhi per guardare Anche se morirò fra un po' me lo sento Lo sapevo Mori, puttana Lucas, desord Ragazzi, qui mi do abbassare un po' il volume per la bestemmia che sto per tirare Voglio farlo schieno gravitazionale Se blocchi del porco di gioco, manneggia, Sant'Antonio Mega Sclero in diretta, porco Dio Ciao, porco Dio Oh, porca madonna, levati Bella, ciao Lucas un'altra volta Mi aspettiamo così, guarda Oh, madonna No, è 18 No, è il fatto che, raga, bella paura No, io non... Ica qui in mano e uccido i compagni di squadra Adesso io pensavo che era un compagno di squadra Invece no, era un fottissimo nemico Invece, porco Dio, no Puttana di merda, non scappi Puttana, ancora tu L'abbiamo visto, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto Non ci può scappare BAM, puttana di merda, muori Mi sono affamato i pollici Ah, abbiamo perso Io ho fatto 10-16, vabbè, non male Per uno che gioca con joystick contro chi usa mouse, tastiera E va bene ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Come sempre vi invito a lasciare un like al video Iscrivervi al mio canale Lasciare un mi piace sempre Anche alla pagina di Facebook Link in descrizione E da ItalianGamers95 è tutto Ciao a tutti